It's the most beautiful time of the year Lights fill the trees spreading so much cheer I should be playing in the winter snow But I'ma be under the mist so I don't wanna miss that on the holiday But I can't stop staring at you Ciao a tutti! Eccomi tornata con un nuovo video per parlarvi questa volta di capelli Vi faccio un hair tutorial con delle extension che mi sono state mandate da il sito Irresistible Me Hair E sono delle extension bellissime cioè io mi sono innamorata di queste extension da quando l'ho viste Invece io è tipo... Mio Dio non ho mai avuto questo volume in vita mia Sono anche lo stesso identico colore dei miei capelli Vi faccio vedere un po' le clip Le ho anche appunto boccolate Le ho boccolate con il ferro perché comunque per il tutorial mi servivano boccolose Sono praticamente il mio stesso identico colore Questo colore si chiama Ginger Questa è la clip magica Cioè guardate qua Sono tre clip in una Però è solo una in realtà Tantissimi tantissimi capelli Perché poi sono appunto 100% capelli umani Vi giuro che basta solo questo Sui miei capelli A volte quando vado di fretta indosso solo questa E già c'è un volume pazzesco Ne vale la pena Cioè io di tutte le extension che mi hanno inviato fino ad adesso Queste sono il top veramente Non che io abbia provato tantissime extension Ho provato in realtà solo quelle che mi hanno mandato E queste sono fino adesso Cioè sono al top Sono le migliori Poi ci sono appunto tutte le altre varie clip Quattro pezzi appunto da due clip Che io poi successivamente sono andata ad unire così Così appunto c'è molto più volume Stessa cosa ho fatto con le altre Due pezzi da tre che sono andata ad unire allo stesso modo Questi qui Questi appunto quattro pezzi Vado ad attaccarli ai lati solitamente Perché si crea più volume C'è una mosca E questa vado ad applicarlo sotto Nella parte in basso in basso E poi infine ci sono questi due pezzettini da uno Mi sono arrivate tutte queste extension In questa scatolina carinissima Cioè proprio bellissima Infatti non credo che butterò Non mi dilungo più i chiacchiere su queste extension Che mi vedrete adesso indossare nell'air tutorial E queste clip sono fantastiche Cioè non devi stare lì tre ore A smontarti il cervello per attaccarle Ma fai così E per lì non sono già attaccate Tengono tantissimo Allora niente vi lascio all'air tutorial Con il mio barboncino qui Noi ci vediamo sul mio profilo Instagram Su cui posto un milione di foto Su Twitter Che sto aggiornando più spesso E su Facebook Un bacione 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 Un bacione